Allora, mi chiamo Costante Bis, nato a Cordiniano, fra poco faccio 73 anni, è un vecchietto ormai. Io ho sempre vissuto qui e non andrei a vivere da nessun'altra parte. È il mio ambiente, questa è la mia vita. Sono appassionato di tutto ciò che è il mondo degli animali. Ho imparato a osservare la natura e ho cercato di imitarla. E oggi sono in pensione da tanti anni e mi diletto a fare, in gergo viene chiamata chioccolatore. Io ho scoperto il mio talento da ragazzino, ecco. Ah, in paese mi dicono che sono bravo. Sì, in paese mi conoscono tutti, anche perché faccio Babbo Natale. Beh, dal 1993 che non taglio più la barba. Qualche ragazzino viene, sì, è vero, non viene via. Non è come quella finta che fanno vedere per la televisione. Cosa volete? Vivo con la natura e quindi la osservo, la imito. Mi sono innamorato di questa cosa e adesso sono all'apice di quello che so fare. Dovrebbero scegliere me perché io ho un talento che pochissime persone sanno fare. Questo è il fatto. Carissima Mara, ha già vinto, bravissima. Devi riflettere? Prendilo, prendilo, bravissima. Io, devo dire la verità, non abbandono le bambine. Perché io credo... Eh, ho capito che sbaglio, ma fammi fare a me, ho capito. Io, devo dire, rispetto molto, signore. Sono convinto che sarà bravissimo. Ci farà tutti i rumori della foresta, ci farà il cinguettio degli uccelli, le vespe, l'amica... Ho sbagliato, no? Il rumore dei rotelli, però io devo essere... non cambio le mie... Mara, sceglilo. Allora, la pianti? Non si do un cambio alle mie bambine, mi dispiace. Allora, Mara dice... Io do fiducia e la mente torno indietro. La smetti di rompere. La smetti di rompere. La smetti, dammi retta. È lui che è scagato. No, però è unico nel suo genere, ha già vinto delle gare. Adesso gli do una martellata in testa che lo ha fatto. Brava, Mara. Mi dispiace, mi dispiace. Sono molto contenta di essere... Non sei professionale. Allora, per regolarità, però, dobbiamo fare scorrere i 15 secondi, va bene? Oh, 15 secondi ascoltando a te. 15 secondi di pensiero e vediamo che succede. Certo. Vai col tempo. Vai col tempo. Hai 15 secondi di... Mi dai retta. Eh, ma che succede niente. Con lui può fare delle cose bellissime. Non lo cambia. Dai. Non lo cambia. 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 Mara è rimasta fedele alle sue ragazze, alle Black Widow. Però noi adesso comunque vogliamo dare la chance a questo talento di mostrarci che cosa sa fare così eventualmente potremo pentirci di non averlo scelto. E in ogni caso devo chiedere al maestro Flavio Insina di darci una mano per, eh no, perché serve una guida, no, a questo nostro talento. Per lei, Billi, questo e d'altro. Grazie, grazie maestro. Allora, questa è l'esibizione di Costanto.